Bravo sei, in silenzio radio. Dalle 13.30 oggi come ogni giorno su Twitch, primo link in descrizione per giocare insieme, per parlare di code e per divertirci insieme. Partiamo subito, vi ricordo che ieri sera ho pubblicato una video recensione di un prodotto che mi ha mandato la BenQ, un monitor 27 pollici. Andate a recuperare la video recensione, fatemi sapere che cosa ne pensate ma soprattutto fatemi sapere che monitor voi usate per giocare. Bene, durante le finali della Call of Duty League di ieri è stato trasmesso questo teaser trailer che molti hanno avvicinato al famoso personaggio Blackjack del mercato nero di Black Ops 3. In realtà ragazzi vi do maggiori informazioni, va benissimo che ricorda sì il personaggio del Blackjack del mercato nero di B.O.3 ma è un nuovo indizio sul nuovo capitolo della saga quindi di Cold War. Infatti se sentirete l'audio e soprattutto se leggete la frase finale alla fine appunto di questo piccolo spezzone si richiama la famosa storia dei pedoni. Questo duella scacchi di cui vi ho riportato già nei giorni passati tante informazioni, pedina nera che batte pedina bianca, pedina bianca che batte pedina nera. Ogni giorno del teaser trailer, quei famosi sette giorni dell'evento di Treyarch si parlava tanto appunto di questa partita scacchi. E la stanza tv del sito Reveal di Cold War viene mostrata proprio all'interno appunto di questo teaser trailer. Quindi qualcosa sicuramente accadrà nei prossimi giorni relativamente appunto a questo aspetto. Proprio in merito a questo aspetto così rimaniamo sulla notizia, vi faccio vedere e vi spiego che cosa è accaduto proprio dopo l'aggiornamento del sito Pound Takes Dawn che si è aggiornato proprio ieri. Come potete vedere nell'immagine è cambiata la schermata, è cambiata appunto il contenuto della pagina. Troveremo un orologio funzionante, un poster nascosto del videogioco A che è sviluppato da Activision del 1985, la figura di un ladro che rappresenta il gioco Kaboom sviluppato sempre da Activision ma nel 1981, il modellino in miniatura dello stadio di Verdansk, libro, computer e post-it relativo al gioco Zork, attraverso il computer è anche possibile interagire con il gioco, un vecchio fax contenente informazioni su come giocare a Zork e una cassaforte chiusa. Quindi ragazzi preparatevi che a breve arriveranno nuove informazioni, sicuramente già da questo sito. Rimaniamo sempre nell'ambito di Cold War perché nuove conferme, questa volta però direttamente dal negozio in game di COD WW2, quindi stiamo parlando del titolo della Sledgehammer Games, che la beta inizierà l'8 di ottobre in accesso anticipato su PS4 con il pre-order, quindi ormai sembra ufficiale la data di rilascio della beta. Ringraziamo NSF Josh per la segnalazione. Molti utenti che hanno guardato invece la COD League l'altra sera si sono accorti che in una scena dove veniva mostrato lo stadio è presente una nuova struttura nelle vicinanze. La scorsa settimana vi avevo parlato di una linea metropolitana che è stata trovata nei file di gioco che potrebbe arrivare all'interno della mappa, come abbiamo visto con il treno che faceva appunto il giro della stessa. In passato è già successo che l'Infinity World rilasciasse video o immagini di cambiamenti a Warzone che poi sarebbero arrivati con le nuove season. Non ci resta quindi che aspettare maggiori aggiornamenti nei prossimi giorni, rimanete sintonizzati. Vi faccio vedere invece l'icona del pass battaglia della season 1 di Cold War svelata direttamente dalla Ultimate Edition del gioco. Ieri abbiamo parlato tanto del discorso dei cheater, Ma che cosa sta facendo praticamente Activision per contrastarli? Aveva introdotto un anti-cheat che a quanto pare poi non ha fatto tutto quello che ci si aspettava, quindi il risultato che ci si aspettava. Bene, ieri Activision ha chiamato in causa la principale società che produce trucchi ed hack per Warzone e Modern Warfare. In risposta dal tribunale in attesa dell'udienza, la società ha disabilitato tutti i sistemi venduti al pubblico. Non vi dico e ovviamente non vi pubblicizzo questa azienda per non pubblicizzare, scusate il gioco di parole, i suoi prodotti. Quindi che sia l'inizio finalmente di un'azione importante di Activision contro i cheater, ovviamente molti mi risponderanno, sì ma esistono tantissime aziende che fanno queste cose, che vendono queste hack, che vendono questi cheat. Bene, sono d'accordo con voi ragazzi, ma se cominciano a vedere che Activision inizia a denunciare le aziende grandi, voglio vedere se continuano a farlo, sapendo che possono andare incontro ad azioni legali. Staremo a vedere comunque finalmente un passo importante da Activision in merito a questa cosa. Sono stati trovati all'interno del gioco invece nuovi file audio, per quanto riguarda la nuova arma che vi avevo riportato nei giorni passati, l'Alfa 12, la A12. I nuovi file audio infatti confermano che si tratta di un fucile a pompa automatico che dovrebbe arrivare all'interno della Season 6 del gioco. Ringraziamo Big Mike per la segnalazione. Ecco invece quali saranno le playlist introdotte questa settimana con il classico update interno. Nel multiplayer arriverà Cerca e Salvataggio, Guerra Terrestra Rinforzo e Shot Ship, quindi Shot House e Shipment. All'interno di Warzone, Denaro Sporco Quartetti e King Slayer Terzetti. Ovviamente una delle due modalità di Warzone arriverà tra giovedì e venerdì, ma non l'ha specificato l'Infinity World, come accade ogni settimana. Vi faccio vedere invece due nuovi bundle in arrivo, uno che mi avete chiesto in tantissimo, Mara Kaway Cut al prezzo di 2400 Call of Duty Point, Mara in versione Gatta, e poi The Game Winner, una variante, un nuovo bundle per quanto riguarda Gas. al prezzo di 1400 Call of Duty Point. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube per supportare questo canale informativo, vi aspetto alle 13.30 live sulla piattaforma Viola, sul mio canale Twitch, primo link in descrizione, e ci vediamo invece domani con me, ore 7, qui su YouTube, con un nuovo TGCode. Grazie a tutti. Grazie a tutti.